Ciao a tutti amici di Javatech Dato che mi è stato richiesto da alcuni di voi come poter andare ad eliminare dalla lista della raccolta completa dei nostri giochi alcuni giochi non più utilizzati o comunque scaricati, testati e dopodiché lasciati lì inutilizzati o disinstallati con la guida di oggi andiamo appunto a vedere come andare ad eliminare dalla raccolta dei giochi completi uno o più giochi del quale non ne facciamo più utilizzo per meglio dire anziché eliminare la parola esatta è disabilitare questo perché l'eliminazione completa da quella lista non è possibile però si può eventualmente disabilitare il gioco o i giochi a noi non più utili e nasconderli quindi alla nostra vista e avere la raccolta ordinata anziché avere tutti quelli che nel tempo abbiamo anche solo utilizzato per pochissimo tempo attraverso il nostro telecomando ci basterà andare nella sezione i miei giochi e app accedere all'interno e scorrere qua in raccolta completa come potete vedere dentro raccolta completa vi sono di qua diversi giochi quelli con la freccia verso il basso che sono stati in poche parole utilizzati anche solo una volta scaricati, utilizzati, quello che è e non sono fisicamente installati nel nostro sistema però questa cosa potrebbe darci fastidio perché vediamo qua alcuni giochi che ad esempio abbiamo provato giusto 10 minuti non ci piacevano, l'abbiamo disinstallato ma rimane ancora qua nella nostra visualizzazione per far sì che questi giochi non vengano più visualizzati all'interno della nostra raccolta ci basterà cliccare il pulsante quello chiamato in basso a destra altre opzioni ovvero sul nostro telecomando questo qua con i tre trattini una volta cliccato sul gioco di interesse abbiamo qua nascondi dalla lista se confermiamo nascondi dalla lista e dopo di che ci spostiamo su nascondi vedete che adesso quel gioco da qui è andato via e non ce l'abbiamo più qui in alto ci risulterà dove c'è il filtro in questo caso 11 giochi mentre prima erano 12 facciamo questa operazione per tutti i giochi che non sono di nostro interesse quindi ad esempio questo non mi interessa clicco il tasto a tre trattini faccio nascondi dalla lista nascondi vedete che man mano i giochi qua diminuiranno dopodiché se li volessimo rivedere quelli che abbiamo attualmente disabilitato e nascosto ma non eliminato definitivamente da questa raccolta completa ci basterà andare qua su ordina dalla Z cliccare e vediamo qui il filtro nascosti se clicchiamo il filtro nascosti vediamo qui solamente quelli che abbiamo disabilitato se rimpostiamo ordina dalla Z torniamo e rivediamo solo quelli che ancora non sono stati disabilitati ragion per cui fate nascondi dalla lista su tutti quelli che non sono più di vostro interesse e dopodiché potete andarli sempre a recuperare nel caso in cui li voleste reinstallare e riutilizzare con questo è tutto spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su jovatec.com